Quando ho visto il trailer del comandante La Ciconia di Silvio Soldini, ho preso atto del cast, Valerio Mastandrea, Giuseppe Battiston, Alba Rohr Wacker, sempre quelli, sono in tutti i film. Diogene cercherebbe un film dove non c'è Alba Rohr Wacker, bravissimi caratteristi, bravissimi, ma caratteristi, è un po' il momento, anche non felice, del cinema italiano perché fa fare ruoli da protagonista e caratteristi, è un discorso che mi porterebbe lontano, ho già fatto ed è anche conosciuto, però lo faccio come discorso preventivo perché Silvio Soldini ha sorpassato tutto questo e ha sorpassato i contenuti normali del cinema contemporaneo italiano, qualcuno ha detto che è provinciale, qualcuno più importante di me, i contenuti li sappiamo, o roba di attualità, oppure vecchie reminiscenze, Piazza Fontana, cose ideologiche, insomma un cinema triste che non ci premia, non prendiamo i premi importanti da oltre 10 anni. Dico che Soldini l'ha sorpassato perché ha usato questi caratteristi bravi facendoli caratteristi di se stessi, cioè scivolando, portandosi verso l'ironia e verso il grottesco, allora funziona, si ride, si sorride, ci si diverte, lo dico, l'ho già scritto su altre testate su cui scrivo, è riuscito perché ha fatto un bel film francese, il comandante della Cicogna è un film francese, ha quelle caratteristiche di un certo cinema leggero ma intelligente, ripeto l'ironia, il grottesco, si ride e si sorride, è la storia di una famiglia, Mastandrea è un padre di famiglia, fantastico, sembra un po' Edoardo, accento napoletano, ha un figlio, ha una figlia che è incappata in un incidente perché su internet viene proposto una sua azione erotica poco simpatica, è un figlio mezzo matto che si fa delle domande stranissime, perché gli uccelli ritengono che gli umani non vogliono, perché non sanno farlo o perché non vogliono? Domande di questo genere e stringe un'amicizia molto salda con tale Agostina una Cicogna, il film si sviluppa in questo senso, gradevole, sul mio dizionario il Farinotti gli ho dato tre stelle, il film poi si va a ricomporre, la storia è simpatica, i conti tornano alla fine, mi fa piacere parlare bene di un film italiano di tanto in tanto.